Signor Montoro, sappiamo che lei ha una passione per il mondo del basket. Da dove nasce? Nasce nel vedere un gioco pulito. Fino adesso si è avvicinato a quante squadre? Sono avvicinato la mia città, che è Biella, negli ultimi quattro anni ero il mio sponsor. Abbiamo vinto una Coppa Italia a Rimini, poi come tutti gli imprenditori la voglia di cambiare, sono andato a Montedranaro dove ho ritrovato un amico che si chiama Del Moro, onesto, penso, come me. Ci siamo dati la mano e lo scorso anno abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Quindi si è avvicinato al basket club Ferrara grazie al direttore Del Moro? Certo. Cosa si aspetta dalla squadra quest'anno? Che giochi. Quindi la vedremo alle partite quest'anno? Sicuramente sì, è di citare la squadra e augurandoci che ci siano degli ottimi risultati. Se non ci fossero saremo contenti lo stesso. Perfetto, grazie per essere intervenuto. Ci manchia, ecco, grazie a voi. E buona giornata e auguri per questo campionato. Speriamo, grazie. Grazie a tutti.